la no spera spera che è sempre come si gioca come si gioco è pesante pesa 200 kg ok noi dobbiamo trovare gli oggetti verdi e gianni in comune ci sono scritto sto leggendo le istruzioni dove ce l'hai le istruzioni in mano come che ti fai a fare? stavano su una scuvanina su bastard adesso vado troppo ragazzi dove stavano sto coglione di mered ragazzi le istruzioni ragazzi qua a terra dove sto io eh ma dove stai? sto saltando come un cretino ma siamo arrivati? ma è dove? ma Gesù i cao in questa a terra ma non ti vedo ma come no? no ah ok io vedo le istruzioni ma non te ma ti vedo? self mode adesso mi vedi? ti aspetto la luce si adesso che aspetto si gli spiriti hanno stati ma poi ti vedo ti vedo pure vabbè change suite ma perché non va buona questo ma dopo lag ma è una rara chitarra cose? tolava una botta di lag no gazzi aspetta se voglio giocare un po qua scrivo fortnite io ma come va? stiamo in orbita perché non fa prima la porta abbiamo una porta e ci buttiamo ma non si può aprire moriamo va niente ci siamo? ok andiamo con la mappa poi c'è la mappa ok ragazzi muoio muoio visto che ci stanno dei cosi volandi be careful non è che serve dove si scende questo posto di merda ma ha masaggio vabbè ok ma sai no 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 non ci stai l'escribole ah no vabbè oh le abbi incorri van rush van come l'abbè il vecho cosa è questo? no no niente è un pianto ma mi mi vuoi che c***o qui ci sta franzi sono quattro minuti alla volta show c***o se premi dentro ti esce dove sta la main entrance ok ah là là ok ci siamo si si è oh attenzione Antonio che sei parte che è finita è ammazzato wow guarda come corre parco ecco oh che è sto oh ma che è matteo matteo explorer è rimasto fuori bello mi sentite madonna sanda ma ci sta la doccia eh come che vorrei sapere io non so sempre a te oh non si sente come sempre io l'inventario come? eh venga domanda no aspetta no ottimo ma che c***o ho preso un po' di metano che serve a noi wow con il tasto destro fate una leggera ricerca ok ho trovato della roba possiamo andare mi sentite bene questo c'è qualcosa aspetta mi scende ma te c'è qualcosa ottimo ok è verde sì quando lo trovate perfetto solo questo ci sta qua un hits e qua giù c'è caso aspetta e allora usciamo depositiamo una roba e prendiamo un'altra ria pronto? sto cazzo dove si vede? ok sono uscito ok 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 è morto perché ma com'è morto? è morto è uscito morto andiamo andiamo ah si può portare ok aspetta ma dobbiamo tornare sul discord però cosa? dobbiamo tornare sul discord mi sa certo proviamo ad arrivare in base forse riusciamo a rianimarlo ok 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 andiamo anche le vespe bene che io sono uscito da una fire exit e ho detto perché non mi sente nessuno? però giustamente non c'è nocchio non c'è nocchio eh si neva sconnected come sempre torniamo su discord vai si commenterà ma fat ti ho trovato nella nave è davvero una bella nave Elisabeth ma la cosa bella è che chi l'ha aperto? la cosa bella a VNG è che c'è scritto neva sconnected come sai? eh si comunque io vi sento è anche in gioco dopo ah ok ok ma come siamo? che cazzo ne so io ho provato a uscire e ho morto la cosa bella è che io sono uscito da una fire exit ho detto ma 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 perché non mi hanno seguito? non mi hanno visto ok aspetta facciamo una cosa chiudiamo e partiamo andiamo ok si è sistemato ah noi abbiamo un limite di tempo per quando si chiude la porta e quando stiamo all'interno ok ma fatta che? il nostro paranoid come? che fordine? ah no già abbiamo fatto schifo l'abbiamo fatto è perché se ne siamo andati subito aspetta aspetta fermo sta arriva al pacco sta arriva al pacco ah chi ha poi chiesto il pacco strunz allora genna guardati con il destro si fa lo stert lo stert funziona e anche l'audio funziona quindi se tu gridi dentro la cazzo di cosa ti scoprono no ah quindi se mi faccio ooooh mi sembra una cosa per uno una cosa per uno ok io sono il fighter io prendo una torta che è genna tu fai lo scherzino e voi è proprio il tuo mentinele ecco che là ci stanno le locuste ragazzi proprio quello che io faccio sto noio succhiamine che mi fai male se mi prendi e poi ti faccio sdrubale proviamo proviamo entrando alla cosa secondaria prima scegli tu ah si da qua frage tu sei i nostri occhi a me 16 tu sei i nostri occhi perché c'è la torcia devo scassinare no 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 ok c'è una mina dove eh la senti va bene proviamo a mandare qua giù non dividiamoci però di qua di qua di qua di qua a parte che qua è chiuso quindi di qua di qua l'abbiamo andato a sinistra ma se parliamo a bassa voce ci scoprono comunque no oh ok ah già qualcosa oh lo faccio all'uscita si anche perché qua siamo già ricordi madonna che botta ha fatto questo senso e quasi salta però è rischioso no 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 che santi cazzo proviamo prima a scendere dove state qua a scendere vedi è chiuso legge ma eccomi ah scassina scassina un attimo scissi tu l'accetto 30 secondi poi ricordati che va a terra quindi devi toccarlo di nuovo ok 10 secondi ok aspetta vado io c'è una mina mezzo no occhio si qua davanti c'è una mina e c'è pure metallo e niente più è chiusa la stranza si però bisogna sassare forse ah si dopo qualcuno però senza agogli item che è troppo tutto ma è proprio io dai vai buttate la pala qualcuno lo raccoglie qua è tu vengi sì aspetta che c'è però non è niente un po' di metallo e lo via la giornata oh c'è il vostro sborra sì via 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 oh ok questo questo ok ma mica ci segue cioè nel senso sì 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 aspetta lo vedo io sto sto stupendo ecco lo sta arrivando io esco da questa nostra roba esco ok a sto punto torniamo torniamo alla nave poi torniamo velocemente uno se lo prende e lo porta lontano si mette a giro intorno dall'altro lato tanto non c'è sa nient'altro e qualcuno lutta qualcuno lutta anche con quello devi saltare ok sì sì dove lo poggio a te e basta così e basta sì sì vai torniamo velocemente questo questo è il peso che porto con gli item sì più o meno un minuto abbiamo in che senso un minuto di lutto perché poi e poi dobbiamo correre alla navicella eh ma non c'ho più stamina aspetta chi è? che cos'era? Fajé? io qui eh ma toglia è stato è stato una una partita veloce bene adesso il mare di Spider-Man bellissimo che cos'era 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 che cos'era